Musica Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di FM Incontri. Stasera abbiamo un ospite speciale, il padrone di casa per eccellenza, affermo il sindaco Paolo Calcinaro e ci parlerà appunto di quello che è stato un po' l'argomento della conferenza stampa di oggi, della conferenza stampa di fine anno, un bilancio che riguarda l'attività istituzionale del 2018 ma anche tanta progettualità per quanto riguarda il 2019 e quindi tutte quelle cose che sono in cantiere per il nuovo anno. Intanto diamo il benvenuto al sindaco. Grazie Donatella. Anzitutto io partirei con quello che è un po' da Fermana, che è un po' l'evento simbolo di quest'anno, che è stata la riapertura della Sala del Mappamondo e quindi di Palazzo dei Priori, un vero senso di rinascita a due anni, meno di due anni dal sisma, perché in realtà il danneggiamento è avvenuto proprio nell'ottobre del 2016 del Palazzo dei Priori e quindi questo ha comportato un grandissimo sforzo, un grandissimo lavoro e però ha restituito alla città insomma un luogo fondamentale e ha dato modo a tutti i visitatori, quelli che in particolare in questi giorni si trovano a fermo e vengono per il Natale, di poter riammirare la natività del Rubens e quindi anche la Sala del Mappamondo. Come è stato possibile realizzare tutto questo con uno sforzo, se vogliamo, un po' oggi diceva Sindaco una sorta di ricostruzione fatta un po' per conto proprio, in casa, al di là di quella che parte dal governo e da tutti i finanziamenti, come ci siete riusciti? Ma un po' la risposta è nella tua premessa, abbiamo fatto per conto nostro, perché ce lo siamo potuti permettere grazie ai soldi delle assicurazioni che il Comune di Fermo in maniera molto previdente già aveva, assicurazione contro l'evento sisma appunto, e quindi abbiamo potuto impiegare una parte di queste assicurazioni proprio su edifici lesionati dal sisma, però con la velocità dell'apparato comunale nei confronti invece di velocità di apparati sovrapparati che si stanno dimostrando purtroppo, lo dico purtroppo, elefantiaci, come velocità parliamo dell'apparato, insomma, della struttura commissariale o comunque degli uffici alla ricostruzione anche regionale, soprattutto per le pratiche private, anche lo vediamo. E questo è poi con tanta, tanta motivazione, tanta, tanta motivazione che ha preso tutti quanti, dagli amministratori, come è logico che fosse, a tutti i funzionari dipendenti nostri che erano sopra questa impresa, ma anche fino all'impresa che lavorava, alle imprese che lavoravano, alle maestranze, diciamo il personale anche della biblioteca, che era direttamente coinvolto, perché abbiamo tolto per la prima volta forse i 16 mila libri in contemporanea, contemporaneamente spostati, libri tra il 1300 e il 1600, insomma, quindi un patrimonio veramente incredibile e hanno operato aprendo tutto il solaio e con il mappamondo che non poteva essere spostato, perché non si sa com'è entrato. Il grande mistero è questo globo che è lì e non si è mai potuto capire come in fondo vi sia stato posto originariamente. Esattamente, quindi ci siamo dati una data che poi coincideva, mi ricordo, con un giovedì, quindi un mercatino di bibi, ci siamo dati una data e la data è stata rispettata che questo è un qualcosa di impensabile per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Se vogliamo ripercorrere un po' a ritroso quello che è stato il cammino di questo anno, di questo 2018, il primo importante evento è stato rappresentato dallo spostamento della sede della Polizia Municipale e della Protezione Civile in una zona che è stata effettivamente riqualificata, come ha detto lei poco tempo fa in occasione dell'inaugurazione della Banca di Credito Cooperativo di Ripatranzone del Fermano, è stato proprio un luogo che ha ripreso vita, quello di Piazza Dante, che invece aveva tutta una serie di problematiche ed era, se vogliamo, anche in uno stato di quasi degrado. Certo, quella era la porta di fermo e si trovava in uno stato di abbandono, hai detto giustamente. In questi tre anni e mezzo, prima di arrivare a questa riqualificazione, spostamento, avevamo già portato lì, concentrato lì, il mercato di Campagna Amica, con un grande successo, grazie anche alla Coldiretti, e poi ricolmato tutti gli spazi vuoti del mercato coperto e poi è arrivata questa opera, per noi era strategica, l'avevamo vista così sin dall'inizio, dare un posto oltre che molto più ampio al vigile urbano e alla protezione civile, ma anche molto più strategico. Credo che si sia visto poi con l'arrivo del Buran proprio a fine febbraio 2018, da lì e non nel punto più inaccessibile, che è poi quello di piazza o nei dintorni per quanto riguarda la protezione civile che si trovava sotto piazzale a Zorino, da lì ti rendi conto immediatamente della viabilità, immediatamente ti puoi smistare in quello o in quell'altro quartiere, perché ci troviamo proprio nel centrale, esattamente. E quindi credo che è un bel recupero per la nostra città, tra l'altro senza fare spese pazze, perché qualcuno parlava magari anche dell'opposizione, con l'incasso e la Solgas, se lì si sarebbe dovuto fare anche un incremento volumetrico, un qualcosa di stravolgente e poi dopo andarlo a spiegare a tante altre parti della città, a tanti altri quartieri dove invece adesso stiamo investendo che tutta o gran parte delle risorse, magari si realizzava il mausoleo di Calcinaro per carità, però non sarebbe stata utile e funzionale per la città. Siamo arrivati appunto a parlare dei quartieri, un po' è stato detto anche oggi durante la conferenza stampa, era un po' l'anno dedicato ai quartieri, alla riqualificazione, anche se vogliamo alla fornitura di nuovi servizi ad alcuni quartieri, chiaramente il pensiero va velocemente verso uno dei quartieri che è sempre stato un po' per tante situazioni che conosciamo più disagiato di altri e quindi lì do tre archi, c'è stato questo momento di stop ad un primo apparire del nuovo governo, ma adesso ripartiranno i finanziamenti per le periferie, quindi lì però si sta lavorando già dalla primavera scorsa e quindi un lavoro che in realtà non si è mai fermato anche per volontà dell'amministrazione, ha continuato ad andare avanti, che cosa si è fatto, che cosa si sta facendo e qual è invece il vero progetto che poi ridarà nuova vita a tutto il quartiere? Assolutamente, abbiamo lavorato fino a metà agosto addirittura per avere tutti i progetti esecutivi, di tutta la riqualificazione, parliamo di 9 milioni di Euro di finanziamento che vengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevamo già fatto partire dei servizi come quello di rafforzamento del servizio del verde sul quartiere, soprattutto per il periodo estivo ma non solo, e quello di controllo della Polizia Urbana. Adesso noi potremmo far partire, appena passata la finanziaria, quindi speriamo nei prossimi due giorni, perché se no lo Stato italiano va in esercizio provvisorio e questo non ci servirebbe, non avvantaggia l'intera nazione. Noi possiamo partire in primis con l'appalto sulla videosorveglianza, che è già stato aggiudicato, manca la stipula del contratto, quindi oltre 400 mila Euro su videosorveglianza, più 200 mila Euro su illuminazione aggiuntiva, proprio sul quartiere, questo è fondamentale perché poi non si può parlare di una riqualificazione se prima non c'è questo passo, tra l'altro anche portato avanti fianco a fianco con la Prefettura, con le forze dell'ordine che ci hanno dato anche alcuni suggerimenti molto importanti e molto validi. Dopodiché partirà la vera e propria riqualificazione, riqualificazione dell'esistente, dell'arredo urbano e una individuazione ex novo, proprio di una fascia, quella più a nord di Trearchi, che sarà un polmone per per una bambinopoli, per un'area fitness per i più adulti e anche per uno skate park, poi il resto sono proprio la riqualificazione dell'esistente, più l'inserimento di ulteriori servizi come una palestra, come un ambulatorio sociosanitario, insomma credo che Trearchi si potrà immaginare da qui a 4, 5 anni, 3 anni come un quartiere comunque di grandi potenzialità e non a caso, proprio per dire domenica arriva l'inaugurazione di una nuova attività pubblica proprio in quella casa che attraversando i Trearchi per anni era non solo vuota, ma murata nel piano terreno, non so se hai presente, proprio quello è il segno di un quartiere che inizia a scommettere su questo futuro e questo credo era anche nello spirito del bando, dove si prevedevano anche degli investimenti privati proprio a fronte di questo recupero. Diciamo che un investimento è già stato fatto e alcune attività danno già i suoi frutti ed è il discorso che riguarda i servizi sociali, quindi tutta quell'assistenza sindaco a chi abita il quartiere, perché già c'è chi lavora da tanto tempo e c'è stato anche ieri il piacevole momento di portare i bambini a visitare il centro della città col trenino, una cosa che potrebbe sembrare molto scontata, ma per alcuni di loro molto piccoli non è poi una cosa così piccola, è una cosa grande, questo chiaramente viene fuori nell'ambito anche di un progetto più grande che è quello dei servizi sociali, dei quali oggi ha parlato, che è uno dei settori che più magari inorgoglisce l'amministrazione per quanto riguarda l'attività 2018? Sì, credo che proprio lì su tre archi un gran lavoro stanno facendo tutte le associazioni messe in rete dal Comune, anche il centro sociale che veramente fa un lavoro di volontariato impagabile e su questo lo voglio dire espressamente. Più in generale sulla città credo che il Comune di Fermo è l'ambito sociale di riferimento grazie al lavoro non solo di Mirko Giampieri, ma anche di Alessandro Ranieri, Gianni della Casa e tutto lo staff, si sia posizionato al vertice regionale per l'utilizzo di quegli strumenti da parte di governo e regione come il reddito di inclusione e i tricocini di inserimento sociale. Ne abbiamo azionati in proporzione chiaramente agli abitanti più di tutti qui in questa regione e questo ha dato una forte mano alle sofferenze e lo darà nel 2019 quando noi adesso stiamo cercando proprio un abbinamento tra difficoltà non solo di disabilità ma anche socio-economiche con le aziende che stanno offrendo la possibilità di inserimento per i tricocini annuali perché sono previsti per sei mesi, per più sei mesi. In più le progettualità come per esempio la casa alloggio per singoli soggetti in difficoltà sta partendo con già una convivenza e una coabitazione che sta andando positivamente e poi anche l'assegnazione nei passati tre anni di 101 case popolari, un grandissimo lavoro del servizio patrimonio di Laura Mezzabotta e però oggi si è conclusa appunto la gradatoria, la vecchia gradatoria delle case popolari e ce ne sono altre 32 o 34 adesso non ricordo bene che sono numeri altissimi alloggi per famiglie che sono in emergenza abitativa. Quindi un'emergenza che poi purtroppo è stata chiaramente anche aumentata dal terremoto quindi questa situazione insomma va a colmare un ulteriore problema che si è avvenuto a creare. Quindi abbiamo tanti aspetti positivi, le criticità che restano, sono le cose da fare, le priorità assolute e quali sono sindaco? Ma allora le criticità che restano sono, ci sono, sono tante purtroppo perché era una città che comunque aveva rifiutato tanti suoi nodi quindi alcuni sono stati risolti, altri saranno da sciogliere e da risolvere. Un grande rimpianto, lo dico immediatamente, è questo itera per la casina delle rose che secondo me rappresentava una possibilità di rilancio, è vero, si è sommato alla vicenda terremoto, al sisma e quindi ha imprevisamente perso di appilla, ma questa è anche la risposta purtroppo a chi pone l'ideologia prima dell'interesse vero della città, che parlava di svendita, ma io di file fuori il comune purtroppo, non ne ho viste, quindi se fosse stata questa svendita, questo regalo, ovviamente… Quest'occasione sarebbe stata colta da molti, esattamente, questo credo che sia evidente. Abbiamo invece un nodo che si va districando che è quello anche lì dell'ex mercato coperto in pieno centro, l'ex mercato coperto, per cui quest'anno sono arrivati appunto oltre 3 milioni e mezzo di finanziamento, quindi ora potremo partire con la fase progettuale per creare come un vero polmone di attrattiva per la nostra città e di rilancio anche commerciale. Questo credo che sia un gran bel successo, perché in precedenza per forza si doveva pensare comunque ad un privato che doveva andare ad investire lì per poter recuperare il tutto. Ora finalmente la pubblica amministrazione può decidere, può fare da sola secondo quello che è meglio appunto per la strategia della città, della comunità e non solo del privato. Quindi questo è un nodo appunto da affrontare e che verrà insomma, non dico che nel 2019 probabilmente non ci sarà il lavoro o forse l'inizio, proprio l'inizio dei lavori, però la fase di progettazione, quei soldi ci sono, sono lì e saranno destinati. Le risorse sono impegnate e quindi si andrà avanti. Come pure per il terzo step che riguarda il Fonte Vecchia, quali sono i prossimi appunto passi che si faranno in tal senso? Secondo e terzo stralcio per il Fonte Vecchia, il completamento del primo cortile, la messa in sicurezza del secondo. In questo caso le risorse sono pari circa 1 milione e 600 mila Euro, di cui 1 milione e 2 provenienti dalla Regione con due diversi finanziamenti. quindi anche in questo caso si potrà arrivare poi con l'ultimo appalto, quello della funzionalizzazione, già una funzionalizzazione di un primo cortile, quindi anche le finiture, gli arredi. Di una parte quindi di poterla utilizzare, attivare. Esatto e anche lì sarà finalizzata proprio a aspetti culturali e aggregativi questo grandissimo contenitore e sarà un recupero molto importante per la nostra città perché c'è questo collegio che praticamente è anche nascosto perché si trova tra la chiesa di San Domenico e la sottostante Scuola Sapienza, ma è veramente vastissima. È un luogo strategico che poi anche poggia anche un po' sulle cisterne, quindi su un altro luogo simbolo della città. Molti cittadini non giovanissimi ricordano quella come sede della loro scuola, di averla vissuta. E quindi arriviamo anche a questo altro nodo, il discorso dell'edilizia scolastica, una partita ancora tutta diciamo così da giocare. Lei ha esposto anche con l'assessore competente oggi la volontà e la priorità di continuare a censire un po' questi edifici, a controllarli e quindi qual è il punto al quale il centro nodale, c'è anche la scuola, l'ampliamento della scuola appunto nel quartiere della conceria, quali sono i prossimi passi? Allora, noi in attesa, questo lo voglio dire, che la struttura commissariale faccia partire questi benedetti lavori per la nuova Ugo Betti Fra Cassetti, in via salvo d'acquisto per un nuovo polo sismicamente adeguato, dovremmo esserci però ogni cosa che in un comune si farebbe in una giornata, lì passano a settimana, il rapporto è quello. E parliamo di edilizia d'emergenza, attenzione, per far capire a volte il paradosso dove ci si infila. Ora stiamo monitorando tutta la vulnerabilità sismica di tutto il nostro patrimonio scolastico, e quello comunale, lo ricordo, va dall'asilo nido appena realizzato, quindi adeguato, dalle materne alle elementari alle scuole medie, questo è il patrimonio seguito di competenza dal comune. Stiamo facendo questi monitoraggi, parliamo fortunatamente di scuole che dal sisma non abbiamo avuto come danneggiate minimamente, tolte insomma la Dondino Mancini e la Leonardo da Vinci per cui abbiamo già i finanziamenti provenienti dal commissario, quindi parliamo anche di finanziamenti ingenti, 3 milioni e 6 per la Leonardo da Vinci per cui partirà la gara adesso per la progettazione e 1 milione e 200 mila Euro mi sembra per la Dondino Mancini. Per il resto sono scuole che non hanno dato assolutamente problematicità, però questo non significa che non ci si debba adoperare, perché? Perché comunque sono risalenti, magari sono state realizzate con criteri costruttivi non attuali e per cui probabilmente non risponderanno alle attuali norme di vulnerabilità sismica. Quindi dovremo anche lì magari sfruttare per dei primi interventi la prossima estate, dei primi interventi localizzati e anche perché no iniziare a vedere quale geografia può avere la nostra scolastica sulla base di queste analisi che vengono fatte per la prima volta in tutte e 30 i plessi scolastici comunali. Quindi una visione di insieme, una visione complessiva che vada a organizzare in maniera diversa anche un po' tutte le scuole. Adesso c'è stato il problema della Betti, sappiamo che è un problema che risale al sisma, sappiamo che è un problema legato a doppio filo con le competenze provinciali e con quello che purtroppo la città ha vissuto in maniera piuttosto drammatica il 14 maggio scorso con il crollo di un soffitto a Liti Montani. Quindi adesso si è creata la necessità di dover appunto supportare il Montani ferito e chiuso dalla procura e quindi la Ugo Betti troverà, insomma avete già individuato una nuova sede in cui poter portare la scuola in itinere rispetto alla costruzione del polo di salvo d'acquisto. Sì, partiamo dall'input della provincia di far abbandonare insomma i locali provinciali su cui appoggiava la Betti, mettersi a fare il braccio di ferro, il muro contro muro sulla pelle dei ragazzi? No, proprio non è possibile come intenzione di un'amministrazione. Quindi abbiamo cercato subito una soluzione. Fortunatamente ne abbiamo trovata una dentro lo stesso territorio dell'ISC, possibile anche appunto per tutte e 14 le classi, quindi perché altre alternative potevano essere quelle di dislocare, di frazionarle in più plessi, oppure di prevedere dei turni no serali, questo lo riusciamo ad evitare, quindi con una situazione emergenziale più che buona, che ci lascerà tra l'altro questo contenitore anche per le prossime, pensiamo a quando ci saranno lavori di adeguamento sulle altre scuole. Per altri plessi, certo. Oggi, dicevo, abbiamo finanziato Leonardo da Vinci, Ladondino Mancini, anche Salvano, sono arrivati 650 mila euro per l'adeguamento sismico e quindi dovrà servire anche un contenitore da ponte, esatto, e credo che invece di far magari stipare i ragazzi, farli sacrificare, eccetera, invece credo che questo sia un giusto investimento sulle scuole, per ora tra l'altro anche appoggiato sulla contabilità speciale e la protezione civile perché ci troviamo ancora nell'emergenza del terremoto. I tempi quali saranno? Quali tempi prevedete per questo spostamento? Ma crediamo entro la fine di gennaio, settimana più, settimana meno, credo che sia questa la tempistica che... Quindi sarà uno spostamento che avverrà in maniera diciamo abbastanza indolore per l'utenza nella misura in cui da dove si trovano si sposteranno magari... Sì, dobbiamo ragionare anche su trasporti nel frattempo, quando ricominceranno su riorganizzazione dei trasporti, soprattutto per chi viveva magari a Viale Trento, che oggi si trovava la scuola molto vicino, trasporti anche del traffico, diciamo, anche se quella soluzione consente anche due entrate, sia da via Alberto Mario, quindi sopra la struttura, ma anche sulla via Pompeiana, per capirci sull'area della festa della Bruschetta, da sotto, visto che ci sono camminamenti che portano direttamente dentro la scuola, proprio da quell'area lì che è anche più facile per un parcheggio, quindi bisognerà lavorare, però le prospettive ci sono, insomma. Quindi va ad inserirsi in un quartiere in cui già abbiamo il nuovo asilo nido che appunto è stato inaugurato agli inizi di questo 2018, la scuola dell'infanzia Santa Andrea, la scuola primaria di Santa Andrea, quindi comunque in un contesto abbastanza favorevole anche all'utenza di un quartiere importante e numeroso come quello di Santa Caterina. Non solo, oltre a queste tre strutture, in quel quadrilatero lì c'è anche un'area verde, per cui abbiamo stanziato proprio di recente, in una delle ultime giunte, circa 60 mila euro, forse anche qualcosa in più, per riqualificare proprio totalmente quell'area verde, per farne una parte per gli 0-6 anni e una parte per gli adolescenti e quindi all'epoca non sapendo di questo ulteriore inserimento, però credo che a Santa Caterina verrà data questa, insomma, questo ulteriore polmone che potrà essere anche a servizio appunto dei treplessi che descrivevi. Siamo anche arrivati a parlare di quelle che sono le strutture sportive, ci sono state delle nuove, delle implementazioni, c'è un apparato comunque di strutture che è piuttosto interessante e pone fermo in una certa centralità da questo punto di vista, anche oggi lei parlava anche della piscina comunale che ha, insomma, riacquisito una grande importanza anche per le competizioni, non soltanto per l'utenza corrente. Qual è lo stato delle cose per quanto riguarda appunto il versante sportivo? Ma credo che il lavoro, sia dei lavori pubblici che del settore sport, è stato molto visibile. Innanzitutto partiamo dal recupero della COPS, che ormai quest'anno è entrata a pieno regime e viene vissuta da tanti giovani, da tante realtà sportive e si continuerà, si implementa sempre di più, adesso sono in arrivo per esempio i canestri, i retrattili, tutte piccole cose che vanno a completare sempre di più questo importante presidio. La piscina con i lavori che si sono svolti già da due estati e la prossima sarà la terza estate che completerà i lavori a carico del gestore, credo che sia diventato un punto di riferimento. Ci sono stati campionati italiani assoluti per nuotatori disabili quest'anno, ricordiamolo, a marzo se non sbaglio. Questo credo che sia un campionato italiano, nella nostra piscina credo che sia veramente un evento importante, ancor più perché è legato poi alla disabilità, visto anche i nostri ragazzi che sono con la Virtus Buon Convento e con l'associazione è una parte del mondo. Poi abbiamo anche tanti altri ritocchi sull'esistente, allora partiamo, proprio in queste ore stavano lavorando al tetto del Coni che era stato danneggiato un po' dal vento forte di un che c'era stato un mese fa, però vabbè, questa è piccola manutenzione. Però parliamo per esempio del Ruzzodromo, un raparco dello sport che è stato finalmente riqualificato, egli è stata data una destinazione e è stato tirato un po' fuori dal degrado e abbandono dove si trovava. Parliamo dell'ampliamento della palestra del campo di atletica, altra cosa molto importante, della sostituzione di gran parte del manto della pista di atletica perché aveva bisogno di una manutenzione che è anche purtroppo costosa, dell'efficientamento energetico delle varie palestre della zona di Vialeti, dell'adeguamento in prevenzione incendi della palestra della ginnastica artistica, credo che sia anche stato un passo molto importante e poi abbiamo realizzato e stiamo realizzando tante piccole strutture di quartiere che però sono riferimento, sono punti di riferimento da Salvano al Croce Fisso, tra poco toccherà Calderette e Ete, insomma abbiamo riqualificato Santa Petronilla per quella spontanea diciamo, quella dei ragazzi, quella di strada che poi è quella che blocca tante tentazioni, ecco anche l'ido di fermo, abbiamo realizzato una piattaforma, insomma credo che siano anche quelli segnali molto importanti, non solo per lo sport ma anche per la regolare vita dei ragazzi. Assolutamente. Ci siamo fatti questa lunga chiacchierata, speriamo di non aver dimenticato nulla di quello che insomma i nostri cittadini volevano sapere, in chiusura la cosa importante che mi piacerebbe che dicesse è un po' quello con cui ha aperto la conferenza stampa di oggi, quindi questo senso anche di collaborazione, di connessione tra l'amministrazione comunale, non soltanto insomma la giunta, gli assessori ma anche i consiglieri e proprio la città e i cittadini. Questo è un rapporto che possiamo dire in maniera molto onesta, sindaco che si incentra tanto su quello che voi avete fatto ma sicuramente un ruolo importante è anche proprio quello della sua persona che ha sempre raccolto molti consensi, molta simpatia, molta vicinanza da parte dei cittadini. Qual è la ricetta per questo rapporto che comunque è un rapporto molto positivo? Io non so se esistono ricette, questo non lo so, solamente una cosa perché questo è personale, come ero prima di diventare sindaco sono adesso, su questo non ho voluto, su questo ci ho tenuto proprio tanto a guardandomi nello specchio a cambiare una virgola del mio modo di essere e di vivere, questo ci ho tenuto molto. Io ringrazio la città che aiuta molto, si sente anche a volte responsabilizzata ed è di supporto perché fa lavorare molto meglio. Dopodiché, lo dico, la bacchetta magica purtroppo non ce l'abbiamo, io vorrei fare il triplo di quello che si fa. Però una cosa bella che vedo è anche una consapevolezza, anche nei fermani, nei miei concittadini, di capire che fermo è una città che può piacere, che può essere anche più avanzata e non così arretrata, che può essere anche di punto di riferimento, dico una sciocchezza, per esempio chi avrebbe mai pensato che Giovanotti potesse scegliere tra Lignano-Sambiadoro, Rimini, Viareggio e poi Lido di Fermo. Ecco, una consapevolezza maggiore, però ci abbiamo provato, tra l'altro a costo zero, ci abbiamo provato e è andata bene. Quindi una consapevolezza che viviamo in una bella città, in una città vivibile, una città che vista da fuori piace, ecco, questa ce la stiamo, è attrattiva, sa piacere e questo ce lo stiamo costruendo un po' tutti, che non è un po' lontano da quello spirito del brontolare, del piagnucolare, che è un po' anche Fermano, è dei Fermani ma anche di me che parlo, insomma. Ecco, però questo fa fare uno scatto avanti a tutta la città, cambiare un po' mentalità e vedere la bellezza che si ha tra le mani o sotto i piedi. Quindi l'augurio che ci facciamo, Sindaco, per la città, per tutti noi, qual è per questo 2019? Innanzitutto abbiamo anche questa festa che ci sarà appunto in piazza per il Capodanno, quindi questo è un altro momento importante aggregazionale e purtroppo l'imperativo categorico della sicurezza c'è sempre, tanto più dopo gli ultimi fatti. Quali sono le misure che sono state adottate, anche in sinergia con le forze dell'ordine, per vivere al meglio questi momenti di festa? Nessuno sparo in luogo pubblico, in luoghi aperti al pubblico, dopodiché se uno c'è la casa in campagna fa come vuole, assolutamente nessuno gli va a sindacare. Evitare le bottiglie, il vetro, devo dire che gli esercizi si stanno uniformando in maniera molto positiva, controllo delle forze dell'ordine, anche il loco appiedate, presenza di personale dell'antincendio come avrete visto in tantissime manifestazioni. Credo che questa presenza discreta, chiaramente i volontari della Croce Verde che ringrazieremo, però questa discreta presenza credo che si faccia anche notare, si faccia anche vedere all'occhio del cittadino che si vuole divertire gratuitamente in piazza del popolo e magari incontrare tanti concittadini e non solo per augurarsi questo 2019 che sarà un anno comunque, lo sappiamo, non facile perché stiamo vivendo in un periodo non facile che però insomma cerchiamo di rendere il più vivibile possibile. Noi ringraziamo il sindaco Paolo Calcinaro della sua disponibilità di essere stato nostro ospite e diamo appuntamento a tutti i telespettatori con la prossima puntata di FM Incontri. Noi ringraziamo il sindaco Paolo Calcinaro della sua disponibilità,